Pronto papo Natale ci sei? Oh porca miseria questo numero della beffana scusi tanto eh Casa la terza? Sì Metti la quarta e vattene affanculo Cameriera? Bella? Ciao, vi serve qualcosa? Portaci del s... È fastidioso? È irritante e maleducato? Ci darebbe fastidio se qualcuno lo facesse a te mentre lavori? Oh ma tu non lavori scusa E chi ci pensi di che ma chi cazzo mi ha fatto fa a me mi sposare? Se va così bene lì, vannazza morta, vannazza Mi chiamavo l'uccelo di bosco Là mi portavo tutto il bosco Buonasera Allora, ma non notate niente di particolare? Non vedete qualcosa di particolare? Sorpresa, sono vestita Ieri ho incontrato una ragazzina di 14 anni che aveva una maglietta con suo scritto Long Island E la prima cosa che ho pensato è stato Dio Una ragazzina di 14 anni che va in giro con una maglietta con suo per il nome di un cocktail Poi mi sono ricordato che Long Island in realtà è anche un luogo E che è il vero alcoolizzato a cui sono io Inizi tua giornata Ma faccio finta di andare in palestra Faccio finta di sta dieta E poi mi mangio quattro tiramisù Gianna, quante volte sei stata sulla coppettina di Vogue? Due nove? Non lo so, ma abbastanza per far te venire a rompere le palle qua Non lo so, ma abbastanza per far te venire a rompere le palle Non lo so, ma abbastanza per far te venire a rompere le palle